Ciao ragazzi, oggi ci troviamo sulle Verdi Colline Marchigiane, precisamente il Rocchetta di San Saverino delle Marche che da lì nasce l'azienda Le Farine SRL. Le Farine SRL è un'azienda giovane e dinamica da oltre 25 anni. Infatti da lì nasce il marchio Verdi Terre. L'azienda Le Farine si è fortemente impegnata nella selezione accurata dalla specie più antica di grano monococco. Infatti l'obiettivo di Verdi Terre è quello di far conoscere e mettere sul mercato un grano veramente antico o meglio così dire primordiale per far conoscere a tutti questo primo grano coltivato dall'uomo ovvero il monococco. Questo grano monococco è stato il primo grano coltivato dall'uomo, è un grano rustico dalle basse rese produttive ma dall'importante apporto nutrizionale e salutistico. Verdi Terre sono derivanti dalla molitura e dalla trasformazione del grano monococco che è certificato e coltivato in filiera tracciata da aziende agricole italiane. Il grano integrale risulta piuttosto digeribile, a basso impatto glicemico, ricco di proteine, di fibre e di sali minerali. Adesso vi faccio vedere nello specifico che cosa mi ha inviato. Allora partiamo qui dalle penne integrali di grano monococco abbiamo una trafilatura al bronzo lenta e sticcatura strozza preti integrali di grano monococco poi qui abbiamo altre pennette sempre da mezzo chilo poi qui abbiamo la farina integrale vittoria di grano monococco qui abbiamo la farina integrale ammorabi di grano monococco poi qui abbiamo invece i fosidi integrali altra farina integrale cocca di grano monococco altri fusilli integrali e infine altri strozza preti integrali per ultimo abbiamo anche queste rustiche integrali da 250 grammi e anche qui nel pacco c'erano delle diverse ricette che si possono fare con questo tipo di grano io non vedo l'ora di mettermi all'opera di poter realizzare qualche dolce comunque anche qualche salato con questo grano monococco ringrazio l'azienda Verdi Terre per questo fantastico kit di pasta e di farina non vedo l'ora di mettermi all'opera e poter adoperare questo tipo di farina con i miei impasti